Volevo augurare una buona Pasqua a tutti i tifosi della Maceratese, una Pasqua diversa, particolare per il momento che stiamo passando. Proprio per questo vi dico di stringerci tutti insieme come i tempi gloriosi alle nostre famiglie, ai nostri figli, ai nostri affetti più cari per vincere questa partita importante. Un abbraccio a tutti voi dal sottoscritto. Ciao a tutti, questa è una Pasqua diversa ma pur sempre speciale. Una Pasqua che rimarrà nei nostri ricordi. Siamo tutti in quarantena, dobbiamo solo avere pazienza e tanta fede. Andrà tutto bene. Auguro al Presidente, ai dirigenti, alla segreteria, staff medico, staff tecnico, ai giocatori, a tutto il settore giovanile, agli addetti stampa, al custode del campo Franco e principalmente a tutti i tifosi una serena Pasqua. Forza Maceratese, mi raccomando, stiamo tutti a casa. Ciao! Ciao a tutti, volevo augurare buona Pasqua allo staff, ai dirigenti, ai collaboratori, al Presidente, ma soprattutto ai tifosi bianco-rossi con cui spero di tornare ad esultare il prima possibile in campo. Buona Pasqua, ciao a tutti! Ciao ragazzi, spero state tutti bene. Volevo augurarvi una buona Pasqua, almeno con un ricordo molto felice, da delle circostanze. Vi ricordate di questa Rata? Beh, spero di sì eh. Buona Pasqua, un saluto a tutti e Forza Rata! Auguro a tutti i tifosi una buona Pasqua, Forza Rata!